È un piccolo scrigno di capolavori di artigianato la mostra di presepi inaugurata nei locali del centro pensionati di Viale Fermi a Borgonovo. La mostra comprende 25 inattività, tutte realizzate dalle mani di artigiani o di semplici appassionati presepisti. Gli strumenti usati sono pazienza certosina, tanta buona volontà e una certa propensione all'uso delle mani per assemblare tra di loro materiali poveri. Il risultato è una lunga carrellata di creazioni dove pastori, i Re Magi e i personaggi della Sacra Famiglia regalano a chi ha occhi per contemplarne la bellezza qualche momento di serenità. Ne abbiamo 25 e le inauguriamo stamattina con la benizzazione del parroco, con la presenza del sindaco eccetera eccetera, poi resterà aperte i sabati e le domeniche dalle 14.30 alle 17.00. La mostra viene ospitata nel centro pensionati dove circa 200 soci hanno ripreso, non senza fatica viste le limitazioni imposte dalla pandemia, le loro attività con l'intenzione di fare di quello di Viale Fermi un punto di riferimento per l'intero paese di Borgonovo. I soci sono più di 200, è aperto al pomeriggio per il gioco delle carte, al giovedì sera e venerdì sera per il gioco del burraco, poi facciamo attività di ginastica dolce, bocce per l'estate e adesso no. Facciamo varie attività sempre dirette al coinvolgimento non solo dei pensionati ma è nostro desiderio far diventare questo un punto frequentato e usufruito da tutti i borgonovesi.